no mamma si è sbagliata ha tagliato tutto oggi camilla taglieremo i capellini mamma mia che bellina che sei papà non sei un po' emozionata che tagliare questi capellini queste ce le conserviamo un po' mamma mia che ha fatto mamma sto tagliando tutti i capelli via 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 e adesso la frangetta poco 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 guarda mamma fa la sorpresina belli guarda guarda mamma che fa qua, i capellini so, non lo capito via 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 potresti farlo No, mamma si è sbagliata Ha tagliato tutto Toroncino No, mamma si è sbagliato Eh, Morino, hai qualche tecnica o non esiste? Certo, prima facciamo il perimetro Allora, prima si fa il perimetro Che cosa intendi per perimetro, Morino? Tutti i contorni Tutti i contorni, ragazzi, mi raccomando, cosa fondamentale Prima tutti i contorni E insegnaci, Morino, quali sono i contorni dei capelli Quando dirì giù, devono essere pari Quando dirì giù, quindi facciamo così col pettine Devono essere pari E abbiamo anche scalati, sì Abbiamo scalati, scalati, che vuol dire? Vuol dire che li tiri su Li tiri su e poi? Scegli un punto Scegli un punto E tagli verso il basso E tagli verso il basso Fino ad arrivare al perimetro Ah, sto perimetro Che su tutti i capelli devi fare il perimetro Non si fa solo sotto, quindi Il perimetro vuol dire il contorno E sopra? E sopra? Come si chiama? Scalatura Scalatura, quindi sopra si chiama scalatura E tutto il contorno Si chiama perimetro E invece parliamo della frangetta Basta Basta La frangetta Gli hai tagliato tutta la frangetta Stiamo in avanti Tagliamo la frangetta Però Camilla il problema è che c'è i buchi Qui ai lati Quindi niente Dobbiamo aspettare che gli crescono Ha questi capelli ai lati Mi sembra veramente Lady Oscar La versione ovviamente bella Non si può accorciare più di così Dai Quelli rimangono quelli spagliati E sparpagliati soprattutto Che bellina Mamma mia Ma che stai fanno dopo Aver fatto il perimetro E poi la scalatura Sto riprendendo la scalatura Che lei si muove Lei si muove Non è facile Abbiamo provato a stare senza tablet Senza distrazioni Ma non si regia È impossibile ragazzi Quindi abbiamo dovuto Per forza di cose Mettere il tablet Mamma mia Sti capelli Sembra che l'hai sempre fatto Sbolazzano Vabbè quindi Allora cose fondamentali sono Ripetiamo Scalatura E perimetro Quindi il perimetro Che tutto deve essere paro Il contorno dei capelli La scalatura Prendi un po' E poi Una sezione La tiri su Eh vabbè Io non sei esperto Quindi Eh quanto tagli? Eh poco Devi Da questo punto Devi collegare sotto La parte sotto E' sempre le antennine Niente Quindi è finita? Sì Amo Più di così Ok Vedi la mamma E no Le fa al pc Mamma te le può dare Vediamo un po' Quei capellini nuovi Che bello Fammi vedere Girate un po' Che bella Che sei Mamma mia Gli hai dato un bacino a mamma Che ti ha tagliato i capellini Sei più bella adesso Vai a dare un bacino a mamma Che ti ha fatto più belli Grazie Grazie Fate vedere da zia e zio Uh che bella Quindi Alice potrebbe Potrebbe essere il lavoro del futuro? Sì Mo li tagli tu a mamma Va bene? Mo mamma te li fa arricciare Ah questo è un altro segreto Morino Un altro segreto Ma tu che ne sai queste cose Cioè Come fai a sapere Che con l'acqua si arricciano Eh Segreti Mamma bolle Le bolle Le bolle Eccoci allora Abbiamo tagliato Eh? Com'è andato questo primo taglio Morino? Vabbè Ancora diciamo che i capelli Sono molto fini E svolazzanti Quindi Non è stato chissà che Però almeno abbiamo eliminato Tutta quella gota Che c'aveva dietro Quindi abbiamo imparato tre cose Il perimetro La scalatura E poi E la frangetta E la frangetta Mi raccomando Se vi serve qualcosa Chiedetela di dice Scrivetevi commenti Che consigli E soprattutto Attivate la benedetta Campanellina Mi raccomando E seguitici per altri video Ciao 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 Sous-titrage ST' 501